Ciao a tutti! Oggi faremo una ricetta coloratissima e golosissima! Faremo i cake pops, bambini! Andate a prendere tutti i confettini, mi raccomando, perché questa ricetta è per voi! Ecco gli ingredienti! Avanzi di panettone o pan di spagna, confettura alle albicocche, cioccolato fondente e confettini colorati. Andiamo a fare i cake pops! Prima cosa, fondiamo il nostro cioccolato fondente. Eccolo qui, pronto! Nel frattempo sbricioliamo il nostro resto, quello che è rimasto, della torta che non è stata mangiata. Ora in questo composto andiamo ad aggiungere la nostra confettura. E amalgamiamo. Formiamo ora tante palline, proprio così. Ora prendete degli spiedini, oppure io ho delle cannucce. E cosa facciamo? Andiamo ad intingere un po' il cioccolato e poi nei nostri cake pops, in modo tale da solidificare nel freezer, perché adesso andiamo nel freezer a solidificare il tutto. Proprio così. Andiamo in freezer. Ed ora andiamo a decorare. Assaggiamo il cake pops. Mmmmm, buone! Grazie a tutti.